questa decisamente non l'abbiamo vista l'altra volta assolutamente non siamo entrati e ma e e e e e e e e io sono sicuro che mi ammazzo comunque che altra cosa per piacere non fare le scolleggine qui dentro potete dimmelo prima che andavo subito nel ecco ecco altro che Isis ma mi è che a caso di idea di venire ogni volta su Rettori